il venditore di statue un tale avendo scolpito un ermes di legno lo portò in piazza per venderlo poiché non si era avvicinato nessun compratore ed egli voleva richiamare l'attenzione di qualcuno si mese a gridare che vendeva un dio benefico e apportatore di guadagni ma una delle persone che si erano avvicinate gli disse amico mio perché mai lo vendi se è tale perché dovresti giovarti tu dei suoi favori e gli rispose è che io ho bisogno di un aiuto immediato mentre lui è abituato a procacciare lentamente i guadagni la favola è opportuna per l'uomo bassamente avido di guadagni che non ha riguardo neppure di coinvolgere gli dèi grazie